Buon pomeriggio e ben ritrovati in diretta con l'informazione di TV12. In primo piano la cronaca con il tragico incidente stradale che si è verificato nella tarda serata di ieri a Pordenone e che ha visto oggi perdere la vita. Il ragazzo che era rimasto ferito è stato investito ieri sera mentre rientrava dal lavoro in sella la sua bicicletta. Si tratta di un giovane operatore sociosanitario al servizio. Ancora un investimento mortale di un ciclista sulle strade del Friuli Venezia Giulia, questa volta a Pordenone. La vittima è il 28enne Lorenzo D'Alonso, travolto nella tarda serata di ieri mentre si trovava in sella la propria bicicletta in viale Grigoletti. Originario di Atessa, in provincia di Chieti, il giovane era operatore sociosanitario del reparto di chirurgia del locale ospedale. L'incidente è avvenuto mentre malcapitato pedalava per rientrare, finito il turno di lavoro. L'investitore è un 25enne del Burkina Faso che alla guida di una Fiat 500 stava consegnando a domicilio sushi per conto di un ristorante. Il ciclista nell'urto è stato sbalzato a terra per diversi metri ed è ispirato in ospedale, in quanto troppo gravi sono risultate le ferite riportate. Il conducente, risultato negativo all'alcol test, è stato il primo a prestare i soccorsi. La procura di Pordenone ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, indagando l'automobilista come atto dovuto, per consentire l'eventuale nomina di un perito all'autopsia, che sarà disposta nelle prossime ore e ad altri accertamenti irripetibili. Rimaniamo nel capoluogo della destra a tagliamento perché oggi c'è stato il bilancio di fine anno della questura. Nel corso del 2022 sono prevenute oltre 15.000 chiamate alla sala operativa, mentre gli interventi effettuati sono stati 1.700. A renderlo noto il questore di Pordenone e Carocci, l'intervista di Daniele Boltini. Abbiamo registrato un'impennata di furti in abitazione, anche se il dato poi rimane in linea con quello del 2021. Ovviamente il traffico di sostanze stupefacenti, l'uso di sostanze stupefacenti, che anche nella provincia di Pordenone è presente perché oasi felici da questo punto di vista non esistono in nessuna parte d'Italia. Sono fenomeni che ancora riusciamo a tenere sotto controllo, che ovviamente colpiamo laddove c'è da colpire, ma che ovviamente devono dare in noi grande attenzione e grande sorveglianza. Quando si fa sistema coinvolgendo tutti gli attori che devono partecipare al mantenimento della sicurezza in territorio, quindi le forze dell'ordine, ma anche i vigili del fuoco, le polizie locali, ovviamente il risultato non può che essere migliore perché si fa uniti, si riesce a raggiungere degli obiettivi che separatamente spesso non vengono colti. È una cosa su cui credo molto, su cui insisto molto. Il prefetto è sulla mia stessa lunghezza d'oltre e quindi su questo ci prendiamo benissimo e i risultati non sono mancati. Questa infatti è un'occasione per me anche per ringraziare la cittadinanza di Pordenone che si è sempre dimostrata molto sensibile da questo punto di vista. Quando c'è qualcosa che desta sospetto, chiamano il 112, chiamano la volante, si attivano e questo ovviamente per noi è un grande aiuto e ci agevola molto nel nostro lavoro. Con la pubblicazione avvenuta oggi in Gazzetta Ufficiale, entrata in vigore la nuova ordinanza per la rilevazione del Covid-19 per i passeggeri provenienti dalla Cina negli aeroporti italiani. L'ordinanza del Ministro della Salute è infatti inserita nel testo pubblicato quest'oggi e lo ricordiamo prevede per tutti i soggetti in ingresso dalla Cina l'obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato effettuare controlli della certificazione di essersi sottoposti nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale o a un test molecolare o alle 48 ore antecedenti ad un test antigenico. Sul fronte Covid anche il Premier Giorgia Meloni ha fatto il punto della situazione. Un sì deciso ai vaccini per fragili ed anziani ma facendo leva sul senso di responsabilità e non sulla coercizione e avanti tutta con le misure per arginare gli arrivi dalla Cina dove il Covid è riesploso con l'uso di tamponi per chi arriva da quel paese, mascherine e isolamenti fiduciari. Manca un richiamo all'Europa. Le decisioni sui tamponi per chi arriva dalla Cina devono essere prese a livello europeo e se da un lato proprio su questo punto il Comitato per la Sicurezza Sanitaria dice sì ad un'azione concertata, dall'altro arriva una doccia fredda dai centri di controllo europei. Lo screening dei viaggiatori dalla Cina è ingiustificato perché i paesi europei hanno livelli relativamente alti di immunizzazione e vaccinazione e le varianti che circolano in Cina sono già in Europa. Tale misura non è necessaria a livello dell'Unione Europea nel suo complesso. Ma l'Italia intanto prende precauzioni e alza la guardia. Nella lunga conferenza stampa di fine anno Giorgia Meloni tranquillizza. Ci siamo mossi immediatamente in coerenza con quello che abbiamo chiesto in passato. Abbiamo disposto il tampone per tutti quelli che vengono dalla Cina. Abbiamo bisogno di capire se quello che sta arrivando è coperto dai vaccini o no. Sinora si è rilevata solo Omicron. Per come la vedo io, penso servano i controlli, tamponi, mascherine. Ma il modello di privazione delle libertà, ha aggiunto Meloni, non è così efficace e lo dimostra molto bene il caso Cina. Dal PD una dura critica per la confusione in cui versa il governo. Da una parte, ha detto la capogruppo Dema Montecitorio, Deborah Serracchiani, abbiamo al Senato il ministro Schillaci, che dice che ha prorogato l'obbligo della mascherina nei luoghi della sanità, che ha convocato l'unità di crisi e che sta prendendo provvedimenti importanti rispetto all'arrivo dei passeggeri dalla Cina. Dall'altra, qui alla Camera, ci costringono a far approvare un decreto che va in direzione diametralmente opposta. Dopo la Confindustria Alto Adriatico, anche la Confindustria di Udine ha firmato oggi un protocollo con la regione Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda la prevenzione e la tutela della salute dei lavoratori all'interno delle aziende. Vediamo di che cosa si tratta. Promuovere stili di vita sani nei luoghi di lavoro è l'obiettivo del protocollo d'intesa tra Regione Friuli Venezia Giulia e Confindustria Udine, siglato stamane a Palazzo Torriani. Un progetto pianificato su base triennale, volto a sviluppare tra le aziende del territorio buone prassi per il benessere e la salute dei lavoratori in sei aree tematiche. Il progetto mira infatti a promuovere la corretta alimentazione, l'attività fisica, la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile, la conciliazione vita-lavoro, ma anche a contrastare il fumo di tabacco, l'abuso di alcol e dipendenze varie. Le imprese che si impegneranno in questo percorso potranno ottenere un'apposita certificazione, attivando interventi migliorativi in due delle sei aree tematiche entro la prima annata, in altre due entro il secondo anno e nelle restanti due entro il terzo. La collaborazione istituzionale è volta a promuovere il progetto attraverso incontri nei contesti produttivi locali e l'adozione di uno standard operativo rispondente ai criteri riconosciuti a livello nazionale e internazionale. Le imprese che rientreranno nei parametri previsti saranno inoltre valorizzate in una giornata a cadenza annuale nella quale saranno premiate per i propri risultati. In Confindustria anche si è valutata la manovra recentemente approvata dal Governo attraverso i due rami del Parlamento, giudizi tutto sommato positivi, ma non basta. Andiamo a vedere comunque anche il quadro della situazione e le novità che entreranno in vigore con il nuovo anno. La manovra di venuta legge mezz'ora prima della conferenza stampa di fine anno e il raggiungimento, annunciato alla vigilia, di tutti i target del 2022 che sbloccano la tranche da 19 miliardi di euro. Obiettivo raggiunto per il buon funzionamento della staffetta con il Governo Draghi e della cabina di regia, festeggiato con la consapevolezza che ora viene il difficile, ossia la messa a terra delle risorse con i cantieri. Giorgia Meloni taglia questi due traguardi in tempo per la sua conferenza stampa di fine anno in cui lascia intendere che i margini di movimento dei prossimi interventi, soprattutto sul dossier lavoro, sono legati alle risorse europee. L'Italia non ricorrerà al meccanismo del MESA, ribadisce la Premiera, ma spera di ricevere una parte di quelle decine di miliardi che non verranno utilizzati neanche dagli altri paesi europei e che l'Unione Europea dovrebbe sbloccare per altre iniziative. C'è poi il Fondo Sociale Europeo destinato alla formazione 8 miliardi avanzati dalla vecchia programmazione e 13 della nuova, senza dimenticare le risorse del PNRR. Molti soldi, sottolinea Meloni, che possono aiutare a rimpiazzare il reddito di cittadinanza. Missione compiuta, esulta il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, dopo la fiducia incassata anche al Senato, rivendicando una legge di bilancio che privilegia e tutela i figli e le nuove generazioni, senza trascurare la stabilità dei conti pubblici. C'è chi però la vede in maniera diversa, non solo le opposizioni. La CGL calcola solo 7-14 euro in più al mese di benefici dal taglio del cuneo fiscale, vantaggi scarsi per i redditi fino a 25 mila euro. Alla prima prova seria, l'esecutivo ha fallito, a ridatece Mario, la sintesi romanesca di Carlo Calenda, nostalgico di Draghi. Sotto l'albero di Natale avete fatto trovare 12 condoni per il valore di 1,6 miliardi, l'accusa del PD. E il Movimento 5 Stelle liquida come bugie la difesa sulla flat tax da parte di Meloni, secondo cui non discrimina i lavoratori dipendenti. E poco fa è arrivato anche la via libera, l'ok definitivo al decreto legge sui rave, con la ghigliattina, ovvero con il taglio di numerosi emendamenti, 183 voti a favore e 116 contrari, un astenuto. Tra le sorprese che arriveranno negative col nuovo anno, quella della benzina più cara, perché da domani sarà eliminato lo sconto sulle accise di 18 centesimi al litro, stabilito dal governo a fine novembre. Terminerà dunque con l'ultimo giorno di questo 2022 e non mancano le polemiche. In arrivo per le famiglie del Friù Venezia Giulia una doccia fredda sulla benzina e sulle tariffe del TPL che toccherà le tasche di tante famiglie. Il tutto nel silenzio della giunta a Fedriga, afferma il capogruppo del PD in Consiglio regionale Diego Moretti. Una doccia fredda che poteva essere evitata, o perlomeno attenuata da Fedriga e dai suoi, se con il bilancio 2023 il più ricco della storia della regione, appena approvato, dal primo gennaio benzina e gasolio costeranno 18 centesimi in più al litro e 50 litri avranno un aumento di 9 euro in più nel pieno, con il completo silenzio dell'amministrazione regionale. C'è poi il tema degli aumenti delle tariffe del TPL, aggiunge Moretti, che si vanno ad aggiungere con l'aumento dei costi degli abbonamenti e dei biglietti, sia per trasporto su gomma che su rotaia, che risulteranno essere sicuramente più bassi del tasso di inflazione, ma che potevano essere facilmente assorbiti proprio dalla manovra regionale. Sul fronte gas il prezzo invece è sceso, al clima meet, ad Amsterdam ha toccato un nuovo minimo sotto i 77 euro. Dopo una partenza in frazionale calo, il prezzo del gas torna leggermente a crescere. Nei giorni scorsi era sceso sotto i 77 euro. E a fermare la speculazione non è più l'accordo sulle price cap raggiunto in seno all'Unione Europea lo scorso 19 dicembre, quanto piuttosto l'andamento favorevole del clima. Una sorta di generale inverno alla rovescia che si è interrotto solo poco prima del Natale. Con temperature più miti della norma, confermate da Meteosat anche per i prossimi giorni, ha permesso di non intaccare le riserve europee di gas e addirittura di aumentarle. A questo si aggiungono i forti venti che stanno incrementando la produzione di energia elettrica dei campi eolici situati nel nord Europa, riducendo il consumo di metano per la generazione. Proseguono poi le consegne di GNL, il gas naturale liquefatto che insieme ai flussi dal Nord Africa e dal Medio Oriente consentono all'Europa di fare a meno dell'apporto russo grazie anche alla posizione centrale assunta ormai dall'Italia. Più stipendi che pensioni in Friuli Venezia e Giulia anche se la differenza è minima. Nel resto d'Italia va peggio. La CGA di Maestre lancia l'allarme sulla tenuta dei conti pubblici nei prossimi decenni. Angela Caino. Anche se di appena 4.000 unità il numero delle pensioni erogate ai residenti in Friuli Venezia e Giulia 506.000 assegni è inferiore al totale dei lavoratori autonomi e dipendenti che percepiscono uno stipendio 510.000 circa. E in regione ci sono anche 42.000 occupati che seppur in pensione continuano su base volontaria a lavorare in piena regola. A dirlo è l'ufficio studi della CGA di Maestre che ha analizzato i dati forniti da IMSS e ISTAT riferiti al 1 gennaio 2022. Analizzando nel dettaglio i numeri emerge però che solo la provincia di Pordenone ha il segno positivo. 15.000 redditi di lavoro in più rispetto a quelli da pensione e da sola colma i divari che si registrano nelle province di Udine meno 6.000 unità, Gorizia meno 3.000 e Trieste meno 2.000. Molto più negativo il dato medio nazionale meno 205.000 unità. In Italia ci sono dunque più pensionati che percettori di reddito da lavoro. Tra tutte le ripartizioni geografiche la situazione più squilibrata è quella del mezzogiorno dove la differenza supera il 1.200.000. Colpa della forte denatalità che da almeno 30 anni caratterizza il nostro paese sottolinea la CGA di Maestre in una nota. La popolazione è sempre più anziana e questo potrebbe portare nei prossimi decenni a serie difficoltà nel far quadrare i conti pubblici a causa dell'aumento della spesa pensionistica di quella farmaceutica e assistenziale. Urgono politiche familiari che incentivino la crescita demografica conclude la CGA ma anche un allungamento della vita lavorativa almeno per le persone che svolgono un'attività impiegatizia o intellettuale un incremento della partecipazione femminile nel mercato del lavoro e infine l'inalzamento del livello di istruzione della forza lavoro che in Italia è ancora tra i più bassi di tutta l'Unione Europea. Parliamo ora del bilancio dell'associazione La Luna una stagione da ricordare in attesa di progetti futuri ci racconta tutto Samantha Segat L'associazione La Luna fa il bilancio di fine anno 60 volontari e 12 persone con disabilità coinvolti in progetti inclusivi indipendenti una trentina di soci e altrettanti dipendenti e tre organizzazioni il tema dell'autonomia abitativa rappresenta uno dei tanti obiettivi dell'associazione La Luna fino ad oggi ha gestito la comunità alloggio Ciasaluna Paola Fabris a San Giovanni così come l'appartamento di Ciasaluna e diverse iniziative di promozione della cultura dell'abitare sociale tra cui via Colombo a Sacile e Casa Facca a Fiume Veneto in modo da avvicinare i ragazzi con disabilità intellettiva verso una vita indipendente sono al momento 12 le persone che hanno deciso di prendere questo percorso tra Casarsa Porcie e Sacile usufruendo di nove appartamenti abitati in più sempre in questo periodo è stato avviato il progetto di co-housing La Luna Nuova dove sono state introdotte due mediatrici di comunità Anche i bambini hanno potuto conoscere da vicino le attività dell'associazione a cominciare dal progetto di orto attivo PET dedicato alle scuole del territorio un'occasione per i ragazzi di stare a contatto con la natura e con gli asini Dalia, Iris e Marcello L'associazione ha poi deciso inoltre di dedicarsi al settore sportivo organizzando corsi di yoga micromovimenti e stretching ginastica antagica tai chi e calcio camminato Francesco Squino presidente della Luna ha spiegato il 22 è stato l'anno della ripresa delle attività sociali dopo anni difficili della pandemia siamo una grande squadra con tanti progetti in mente da sempre attenti al tema dell'autonomia della dignità e inclusione delle persone con disabilità Siamo in chiusura vi ricordiamo i prossimi appuntamenti ci ritroveremo live alle ore 19 col TG Sport il nostro TG serale poi a seguire in prima serata alle ore 21 a tu per tu con Gerard Delofeu uno speciale dedicato all'attaccante bianconero e a ruota alle 21.15 la seconda parte del bilancio del 2022 dell'Udinese a cura della nostra redazione sportiva grazie per averci seguito buon pomeriggio a tutti grazie a tutti